Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Knack 2 per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi eccoci tornati su questo titolo, nell'ultimo episodio abbiamo sconfitto uno dei seguaci degli orchi, anzi degli alti goblin Abbiamo affrontato quel mega robot e abbiamo dato quella specie di reliquia a Xander Oggi dobbiamo proseguire la nostra avventura e andare a vedere qua negli scavi archeologici i titani perché c'è il rischio che gli alti goblin li attivino nuovamente Aspettate che questi qui mi stanno acerchiando Ok perfetto abbattuti Allora ci prendiamo tutte queste gemme gialle Naturalmente facciamo attenzione Infatti guardate una cassa di esperienza proprio qua nascosta Perché l'altra volta mi avete segnalato nei commenti che ne ho lasciata Qualcuna indietro infatti ce n'è un'altra anche qua Ok ci sono pezzi di robot ovunque Ok via dalle scatole Attaccami Vabbè non mi attacchi ti attacco io E due Ok eliminati facilmente Eh bisogna controllare bene 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 tutti i livelli Perché c'è sempre parecchia roba interessante in giro Ok qua non vedo nulla quindi possiamo procedere di qua E Dove posso andare adesso? Ah ok era un ascensore Infatti mi sembrava che quella leva Fosse da attivare Allora Qui dobbiamo usare il cavo Per scendere Facciamo che usarlo Allora attenzione qua Sì in effetti Siamo abituati al platform Ok vai NAC Ah no 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 Vabbè però ho fatto bene a scendere perché c'è qualcosa qua dietro Eh infatti Involontariamente ho scoperto Questa cassa qua Cos'è? Parte del rilevatore Questo gadget ti consente di vedere le condizioni fisiche dei nemici Ok Quindi un altro gadget Bravo NAC Allora Dobbiamo poi andare dall'altra parte eh Ne facciamo così Et voilà Ma se vado giù di qua Così per curiosità eh No di qua c'è solo un buco Quindi torniamo Qui Attenzione Mamma mia A tutta velocità Guardate che roba Un esercito moderno non avrebbe scampo contro di loro Ok un gancio Vai NAC Ok qui facciamo attenzione Perfetto Ah ok posso buttarmi giù tranquillamente Aia Via dalle scatole Spero di non aver saltato nulla Ehi Quei divisori sono stati messi per un motivo Si stai calmo Ci pensiamo noi Allora abbiamo due punti esperienza in più Ce ne servono quattro però eh No 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 Ok lo sconfitto Non me l'aspettavo Boh via dalle scatole Velocemente Nemici abbastanza easy Ok c'era un altro buco di qua Dobbiamo essere veloci Se no cadiamo giù Un altro pezzo Parte di rompicristallo Ah l'abbiamo completato Fantastico Per il momento mi pare Di aver completato tutti i gadget Ti consente di distruggere Pietre solari distanti Con un atterraggio X e poi quadrato Può anche distruggere I super cristalli Ok abbiamo anche una pistola Adesso No Mi ha fatto la finta Ok siamo arrivati da questa parte di qua Ah vedete C'è un altro buco anche qua Vai NAC Parte del rilevatore Ottimo Abbiamo trovato la maschera Qui Aspettate No non c'è più niente qua Quindi torniamo da questa parte di qua Io adesso cerco di mostrarvi anche i tesori nascosti Qui è dura Allora Attenzione a non finire Lunghi Ok Ok Che pelo ragazzi Che pelo Che pelo Ok Aspettiamo un attimo E poi saltiamo su di qua Ok Ok qui dobbiamo correre Per non finire nel macchinario Ok grazie Saltino Altro saltino Bravo NAC Ah attenzione ho sbagliato Non me l'aspettavo Uh al pelo Ok ce l'abbiamo fatta Ah però Sti errori no Ok siamo arrivati giusti Qui si scende C'è dell'esperienza Poi qui Facciamo così Sì in effetti è bello grosso come robot Comunque sti scavi sono Enormi Ok altri pezzi di NAC Arrivo arrivo Ok mi spiace che non ci siano nemici da distruggere Ragazzi Mo Siamo nei guai Vai NAC Ok finalmente c'è da combattere Un tesoro di armi come questo Gundar non l'avrebbe di certo ignorato Ah Via dalle scatole Attaccami Ok sconfitto E questo? Non so come attacca Ok non lo voglio sapere Aia Attacca dall'alto Aia Eh mi stanno facendo parecchio male Eh mi hanno fatto male Martelliamolo un po' Andato Dovevamo far subito così Vieni qua Ok dobbiamo usare questi attacchi qua Perché almeno così li facciamo fuori in 448 Adesso dobbiamo andare A dare una mano agli altri Purtroppo non sapendo come attaccava quello là Un po' mi hanno fregato prima Dai fammi passare Hanno bisogno di me Ok via Bello che non mi sta neanche guardando Vieni qua Bye bye Ok faccio come Kenshiro Madonna Non gli ho fatto niente Mi hanno sconfitto in 448 Sti due qua Sì io mi sono difeso Non mi sono proprio difeso Aia Ok finchè ha l'armatura Non posso pigliarlo Allora Quello è andato Facciamo fuori Il pistolero qua E anche lo spadaccino Poi Quello Facciamo come Kenshiro Ta 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 Allora adesso sono in due Aia Bello che non gli faccio niente Uno è andato Attaccami Uh bello scontro Eh non riesco ad attaccarlo Questo l'ho sentito Oh finalmente sei senza Armatura Ti prendo E ti saluto Ok un po' Me le hanno suonate però almeno siamo riusciti a Ad abbatterli Spero di non aver Dimenticato nulla Corsa contro il tempo Ok voi fuggite Tu vieni qua No Basta C'è altra roba qua in giro Ok cristalli gialli presi Che sono quelli Che ci servono per evitare di andare KO Fungono praticamente da protezione Ok Ok ha battuto anche questo qua Lì sopra c'è uno dei nostri Ah no questo Ok per fortuna me ne sono accorto Eccoli Sì sì Grazie mille anzi Infatti qui c'era un passaggio piccolino Ci prendiamo quello che c'è dentro Ok reperto di acqua marina E usciamo da qua Perfetto Vai NAC Adesso siamo anche corazzati Ok aprite questa porta Tu vieni qua Oh che attacco Anche tu Aia Non ne avevo visto Ah c'è anche questo Perfetto Datemi tutte le pietre gialle Ok prese tutte quante Là c'è altra roba interessante Questi Questo Che dobbiamo portare Mi sembra qua Per schiacciare questa pedana Eh no però Eh dove caspita la metto Ah eccola Ok no Allora dobbiamo appoggiarlo qua sopra Ecco infatti Adesso è a posto Ok spingi qua Ci riprendiamo i pezzi E possiamo procedere Abbiamo chiuso tutte le porte Ma non sembrano rallentare Qui non c'è niente Eh quello fa male Diciamo che i suoi attacchi li sento Ok Abbattuto Un problema in meno Qui altri pezzi Che mi torneranno Sicuramente utili Arrivano? Non arriva niente Allora apriamo anche questa porta qua Ottimo Qui c'è il mitragliere Aia Ok Via dalle scatole Purtroppo ho perso dei pezzi Ma tanto adesso li recuperiamo Non c'è problema Nack Non ficcarti lì in mezzo però Ok Ok Oh possiamo procedere Ok vai K.O Aia Dovevo evitare il suo attacco Ok Adesso Aia Vieni qua Uno è andato Uno è andato Si lì volevo pararmi Dal suo attacco però Nack non ha alzato la difesa O ha in mente qualcosa anche Ah Ok Capito Guardate Prima bisogna andare di qua E prendere il metallo E poi Torniamo di là Però facciamo così Vedete mi sposta la statua blu E i pezzi Di metallo li raccattiamo dall'altra parte Perfetto Sono bellini Questi enigmi Almeno il livello Non è troppo lineare Mi sa che siamo arrivati Cos'è questo rumore? Oh oh Eh Però non ero così piccolino Attenzione Aia No 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 Mi vuole Triturare al massimo Ok Ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti ad abbattere il carro armato Era tosto eh Vai Nack Qui mi sa che siamo arrivati Non dico vicini ai titani Però più o meno Ok Ok siamo quasi arrivati E sono già bello grosso Allora via Gli alti goblin Via il robottino Ne arrivano altri Ok abbiamo anche tre punti esperienza Me ne manca ancora uno Ah possiamo procedere Ok Ok abbattuto Qui c'è un altro carro armato Aia Eh c'è il carro armato che lo protegge Mi sta facendo male Bravo Nack Dai che è andato Oh Abbiamo eliminato anche quello Siamo arrivati Mi sa di sì Siamo arrivati Guardate che so fare Dai facci vedere Ah si ficca dentro il carro armato E poi si ricompone Che colpo Oh possiamo guidare anche il carro armato Però ragazzi questo Ce lo lasciamo Per il prossimo episodio Direi che per questo episodio Va bene così Abbiamo affrontato di nuovo gli alti goblin Dobbiamo fare in modo che Gundar non riesca a prendere il controllo dei titani Ragazzi come sempre Spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui su Knack 2 Alla prossima ragazzi Alla prossima ragazzi